Già fatto! Dovresti prendere anche dei preservativi, amico. Finiscila in fretta e poi smamma. Come, scusi? Questo è il mio negozio. Non ti lascerò fare l'elemosina fuori dal mio negozio. Non voglio l'elemosina. Non sono un senza tetto. Quella è la mia auto. Che cosa pensavi? Perché mi hai sputtanato così? No, amico, io... Pensavo fossimo al collo, egidio. Sapevo come siete le birre, mi dispiace. Oh, sì, così si fa. Che cosa fate? Che cosa abbiamo qui? Che hai, una stringente? Oh, cazzo, qualcuno ha la diarrea qui. Fantastico. Ehi, dovremmo chiamarlo Rea. Ma cosa vuoi? È per mia nonna. Oh, è per tua nonna. Oh, no, quanto mi dispiace. Ehi, lo rivuoi? Tieni, prendilo. Vediamo se... Oh, no. Tronzetto. Coglione. Come dici, Rea? Non ho detto niente. Niente male, Kai. Oh, no. Stai piangendo? Dove scappati? Ehi! Attenti alla mia auto. Che cosa vuole questo? Lasciate stare lo sfigato. Ma che gli prende? Senti chi parla, poi. Quello che mangia fuori dal minimarket come un barbone. Aspettate, l'ho riconosciuto. È l'idiota che ha pulito la nostra forza biologica. Questo spiega il perché della puzza di merda. Stanno facendo incazzare la persona sbagliata nella giornata sbagliata. Oh, davvero? Sì, davvero. Levati dalle palle, sfiga! Ah, merda! Andiamo! Lasciami! Porca troia, come ha fatto? Cosa c'è? Passa, ti manca il zio. È tutto qui, signorine. Dai, Kai. Lasciami. Cosa c'è? Ti manca il piatto? Ehi, lascia il ragazzo! Ehi, ehi! Non è colpa sua!